Ciao Midori, allora oggi ho preparato per te una sorpresa è una caccia al tesoro e poi alla fine c'è un tesoro bellissimo la puoi scoprire? sì allora il primo indizio sta dietro una cosa che tu usi sempre la sera per vedere Alissa, dove la vedi Alissa? no, la sera quando mangi l'ipad guarda un po' se c'è qualcosa dietro l'ipad dietro l'ipad un gatto un gatto chi? Raja dove stava prima Raja? dove stava prima Raja? no allora c'è un altro indizio là che cos'è quello? fai vedere, aspetta Litori, aspetta, però prima ce lo ti fa vedere che cos'è? questo? quello che ci gioca qual'è? questo qua dici? sì questo che ci gioca sempre papà sei sicura? sei sicura? guarda che stai così dura Raja vediamo un po' c'è qualcosa lì sotto guarda un po' se c'è qualcosa eccolo che è? una macchina eh, ma guarda bene qual è la macchina somiglia? grigia no, che colore è? la macchina questa? che colore è? verde che colore è? grigia no, è bianca 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 c'è le ruote rosa qual è la macchina dentro questa casa? ecco la mia macchina brava guarda questa qua è la mia macchina brava, non è proprio uguale però dove è l'indizio? e che ne so devo cercare guarda che casino che c'è qui dentro eccolo una tartaruga una tartaruga significa nella mia cameretta brava perché tu hai una tartaruga sì una tartaruga io andiamo a vedere ecco guarda la tartaruga ecco la tartaruga e allora dove è l'indizio? ecco allora dice che qui che è questa? una piscina una piscina vicino alla piscina troverai il tesoro noi se l'abbiamo una piscina? sì quindi il giardino eh andiamo a vedere se è proprio lì che dici però aspetta amico il riletto è veloce sì dai andiamo un po' a vedere ecco là la vedo aspettami ecco là questa è la tua piscina sì la mia piscina però io dentro non vedo nessun nessun tesoro no forse dobbiamo cercarlo andiamo un po' vai no no dentro l'acqua non penso che sta dentro l'acqua è vuota facciamo un giro intorno alla piscina vieni qua basta di qua andiamo un po' qui non c'è proprio niente no vero mi do non c'è proprio niente guarda un po' che dici allora tu starai su tesoro però diceva piscina vieni cerchiamo e vedete una piscina non era così piccola è grandissima eh vabbè quello era un disegno mica ci potevamo fare una piscina gigante dai vediamo un po' ci dovrebbe stare un tesoro qui vabbè fatti un giro dai sarà da qualche parte dicevo qua piscina questa noi abbiamo solo questa sì ma così abbiamo 50 guarda un po' dove sarà? il libro teorista che cos'è? il libro teorista e questo è un tesoro ma dai davvero è proprio l'alissa mi doli lo andiamo a scoprire dentro casa andiamo a vedere dai andiamo andiamo sennò qui si rovina eccoci siamo arrivati vediamo un po' questo bel libro Raja non è per te guarda wow guarda qua c'è Daniele che suona la chitarra queste qua sono una magica no questo dice disegna il tuo canale il tuo canale youtube tu ce l'hai un canale youtube? no come no? non fai video su youtube? sì allora ve lo facciamo anche noi il disegno vediamo poi questo è qua guarda le bamboline che cos'è qua? un gioco sì però questa qua è l'alissa che sta disegnando sta disegnando una bambola è vero poi dopo lo leggiamo bene guarda io ho visto che c'era anche una foto di alissa che faceva vediamo eh ci sono tanti giochi divertenti tante filastrofi però questo youtube a me mi ha detto l'alissa alleva le manine guarda qua ha fatto una cuccia per il peluche voi sai che quando eri piccola abbiamo fatto anche noi? che tu avevi un po' pazietto del cuore e lo tenevi sempre con te eccola la formula magica queste sono i sogni belli mamma aspetta no questa è quella per ritrovare le cose perse per ritrovare le cose perse allora qual'è quella dei sogni belli ora la cerchiamo guarda qua qua guarda invece questa è una ricetta per fare una merenda golosa cioccolata ma senti Midori sei stata contenta di questa sorpresa? sì eh? sì meno male adesso io voglio vedere questo libro adesso lo guardiamo dai salutiamo tutti che noi ci andiamo a guardare tutto il libro ciao ciao